Oltre 700 metri quadri all'interno di Palazzo Cavalcanti da aprile 2018 ospitano l'attività istituzionale dell'Ufficio Cinema del Comune, una sede che grazie alla collaborazione con l'Accademia di Belle Arti sta per assumere nuova forma e identità dopo i lavori di grafica, design e allestimento realizzati dagli studenti dell'Accademia. Il progetto nasce grazie a un protocollo d'intesa siglato dal 2013 tra i due enti ed ha visto impegnati circa 40 studenti che hanno lavorato allo sviluppo di un logo, di un format di immagine e comunicazione, alla progettazione di interventi di grafica ambientale e segnaletica e all'ottimizzazione dell'illuminazione e dei sistemi divisori verticali. Napoli è una città molto conosciuta nel mondo ma che spesso ha immagini controverse. La collaborazione fra istituzioni pubbliche come in questo caso il Comune di Napoli, l'Ufficio Cinema del Comune e l'Accademia di Belle Arti serve a costruire un'idea della città che è anche legata a una capacità professionale, quella di costruire quello che oggi si chiama corporate identity, un'identità collettiva basata su dei principi contemporanei che sia legata alla storia della città ma che sia anche molto capace di confrontarsi con quelle che sono le esigenze della comunicazione di oggi. Dall'inaugurazione ad oggi il co-housing Cinema Napoli ha accolto circa 200 produzioni ed oltre 3.000 richieste, offrendo appoggio a set come l'amica geniale Gomorra e i bastardi di Pizzo Falcone ed ospitando numerose attività di formazione e orientamento professionale che hanno fatto registrare il sald'out per l'occupazione degli spazi. Alla presentazione del nuovo logo presente anche l'attrice Marina Confalone scelta come madrina. Soprattutto il racconto positivo di Napoli io lo vedo nel fatto che questa città viene considerata una città non omologata, una città non uniforme, non conforme, quindi una città della libertà e della dignità. L'Ufficio Cinema è diventato uno dei nuovi simboli della Napoli creativa e culturalmente vitale di questi anni. C'è questo bellissimo progetto fatto in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di cui sono protagonisti i giovani allievi dell'Accademia che sono appunto un altro emblema di questa Napoli così ricca di fermenti. E quindi solennizziamo un po' questo lavoro, lo annunciamo, sta diventando veramente, ripeto, lo vedrete anche nei materiali allegati, il progetto, questo è un luogo europeo di Napoli.